Stefano Buffagni, vice ministro, ecco grazie a tutti, io le vorrei fare qualche domanda flash proprio di capire, la usiamo come un vademecum, oggi ho letto su una nota della presidenza del consiglio dei ministri che i controlli vengono effettuati dalle forze dell'ordine nell'ambito della loro ordinaria attività, non è un po' poco l'ordinaria attività, non siamo di fronte a qualcosa di straordinario? Guardi, intanto le forze dell'ordine devono anche se dare una serie di altri problemi che ci sono in questo momento nella nostra società e poi credo che sia fondamentale che ciascuno di noi si responsabilizzi e capisca che è indispensabile in questa fase, come ha detto anche qualche medico che è intervenuto prima di me, ciascuno di noi deve fare la sua parte. La sua responsabilità, perfetto, allora per capire bene, poi io ho qualche dubbio ma lo esprimerò a parte, però per fare la propria parte bisogna capire bene, allora le chiedo vice ministro, visto che lei qui risponde per conto del governo, si può farmi delle spiegazioni se io le faccio delle domande secche se mi risponde con un sì o con un no, si può uscire di casa per l'acquisto di beni essenziali, quindi beni alimentari immagino siano beni essenziali, ma per esempio beni di servizio per la casa, ho finito il dentifricio, ho finito la carta igienica, posso uscire di casa per comprarli? Beh immagino che lei quando va a comprare il cibo può prendere anche il dentifricio, credo che sia evidente, che sia fattibile, l'importante è che sia perseguendo appunto le prescrizioni, garantendo le distanze e tutte le norme che abbiamo messo in casa. Voglio andare a comprare un libro, posso? Ma magari il libro non è prioritario e non è essenziale. No, quindi il libro no. Sono molto tempo in casa, voglio acquistare un televisore nuovo, perché mi voglio guardare bene fuori dal coro. Posso? Guardi, credo che non sia una priorità, a meno che non si tratti di un anziano che ha bisogno di questa compagnia di informazione, d'essenza e con le prescrizioni, seguendo tutta la procedura, magari non è una priorità. No, quindi no, quindi teoricamente potrebbe essere multa, cioè se mi fermano io esco e dico sto andando a comprare un televisore per guardare fuori dal coro, rischio la multa e i tre mesi d'arresto. Guardi, non è questo il punto, il punto è che noi dobbiamo limitare le persone che sono in giro, limitare le persone che possano contagiarsi e possano contagiare qualcun altro, perché abbiamo un sistema ospedaliero che è vicino al collasso, dobbiamo garantire un servizio per tutti e ciascuno di noi deve fare la sua parte limitando appunto i rischi, perché ciascuno di noi è un figlio, un genitore. Ma bisogna essere chiesto, io l'altro giorno sono andato dal parrucchiere, sono andato dal parrucchiere e mi ha detto io devo stare un metro di distanza, come faccio a tagliarti i capelli se ti sto a un metro di distanza? Guardi, i parrucchieri devono prenotare appunto i clienti, i clienti devono prenotare per poter andare e poi devono lavorare con le mascherine e quant'altro come è successo per esempio in altri casi di dati sensibili sanitari, insomma di situazioni sensibili che sono già successe in Lombardia. Quindi possono lavorare. Io sono convinto che sia il caso di evitare di andare al parrucchiere, anch'io per primo insomma sto cercando di evitare, perché credo che non sia una priorità. In questo momento direi che è meglio evitare e sono convinto. No vabbè, è giusto, ma guardi, le faccio delle domande, lo so che sembrano domande stupide, passerò per stupido stasera, ma faccio le domande che mi sento fare e che mi fanno, perché nel decreto c'è scritto un termine piuttosto vago che si può uscire per situazioni di necessità, quindi per esempio vado a situazioni di necessità, immagino andare a trovare i genitori anziani se non li metto a rischio eccetera eccetera, è una situazione di necessità. Andrare a trovare un amico? No, quindi non potrei andare a trovare l'amico io. Direi, a meno che non è un amico che ha un bisogno sanitario, direi assolutamente di no, perché qui non si sta scherzando e non dimentichiamoci che ciascuno di noi può essere portatore anche sano del virus e fa danno al familiare, all'amico. È chiaro, il cane si può portare a passeggio? Beh, nei limiti diciamo della zona in cui si abita, evitando diciamo l'avvicinanza con altre persone, è evidente che il cane ha delle esigenze, ma bisogna evitare gli assembramenti, evitare dei momenti appunto di conciliabolo vicino alle persone. Come faccio a comprovare, poi il decreto parla anche di comprovate esigenze di lavoro, ci vuole un documento o basta l'autodichiarazione? No, come ha detto il ministero c'è un'autodichiarazione e siamo responsabili, ciascun cittadino deve essere responsabile perché qui non si sta giocando, non si sta facendo una guerra tra di noi, ma si sta cercando responsabilmente di combattere un nemico, questo virus che è un nemico di tutti e credo che sia fondamentale essere seri, non è un gioco. No, no, ma proprio, mi scusi, io non voglio fare polemiche stasera, le ho chiamate per capire. No, no, direttore, però se uno fa una finta autocertificazione è chiaramente nel momento in cui viene verificata che non è così, se ne assume le piene responsabilità. No, però mi scusi, bisogna capire se c'è qualcuno che verifica che non è così, perché se nessuno controlla e se ci affidiamo all'autoresponsabilità è quello il mio dubbio, che io stasera farò 20 volte, manderò in onda 10.000 appelli alla responsabilità, anzi lo dico qua, guarda, lo dico qua. Dobbiamo, dovete, dobbiamo essere tutti responsabili, molto responsabili, è chiaro, quindi no, non ho dubbi, però dico anche che in una guerra, come l'ha detto giustamente anche lei, come l'ho chiamata io all'inizio della trasmissione, non si vince con gli appelli alla responsabilità, si vince con leggi straordinarie. Quando ci fu la lotta al terrorismo ci fu uno dei poteri straordinari, delle limitazioni fortissime fatte osservare, gli appelli alla responsabilità mi sembrano un po' deboli. Ma guardi che qua ci sono dei limiti, perché se nel momento in cui una persona fa una certificazione falsa o strumentalmente utilizza questo strumento, voglio dire che tutti sempre invochiamo, quando si tratta di imprese, tutte le attività, per facilitare il funzionamento e evitare burocrazia, lo usa a sproposito, pagherà le conseguenze, perché esistono le sanzioni, esiste il carcere e quindi questo non è un gioco, ripeto, poi credo che lei sia il primo che condivida la non esigenza di burocratizzare un momento così delicato. Bisogna avere sanzioni certe, sanzioni certe e controlli sicuri. Le faccio sentire un secondo Salvini oggi e le faccio l'ultima domanda. Tutto quello che non è strategico, che non è vitale, che non è fondamentale, si può e si deve fermare. E invece il governo ci ha detto esamineremo. E in questo momento molti di voi non sanno cosa devono fare. Non si può lasciare un paese nell'incertezza. Cioè la richiesta è di fermare, almeno in Lombardia e forse anche in tutta Italia, di fermare completamente le attività che sono aperte, i bar, i ristoranti, l'attività produttiva. Cioè un blocco vero e totale per 15 giorni. La risposta del governo è no oppure la risposta del governo è vedremo? Guardi, la risposta del governo è che si stanno facendo le valutazioni non sulla base di Salvini che fino a due giorni fa diceva apriamo tutto, oggi dice chiudiamo tutto. Noi abbiamo la responsabilità non di andare come lui a giocare per fare due video, ma la responsabilità di milioni di italiani e della loro sicurezza. E quindi le cose vanno fatte con serietà. Credo che in allenamento con quanto ha chiesto anche la regione si sta ragionando su quali sono gli strumenti. Anche alla luce degli effetti positivi che ci sono stati in alcune zone e negativi in altri. Però le assicuro, noi stiamo affrontando con serietà la situazione, non facciamo spot, non annunciamo un giorno una cosa o un'altra, non facciamo... Sabato la gestione però non voglio entrare... No, ma guardi, la gestione di sabato è stata... Assolutamente, guardi, la gestione di sabato è stata sbagliata comunicativamente evidentemente da chi ha sbagliato degli uffici di comunicazione. Diciamo che la scelta è stata portata avanti e si sta andando in quella direzione. Perché noi abbiamo un paese nel quale la gente era in spiaggia, le persone andavano a fare l'aperitivo perché qualcuno ha detto tranquilli, ripartiamo. Quando in verità qua si tratta di un nemico invisibile che noi tutti, ciascuno di noi deve combattere. Per il momento, mi scusi, solo in una battuta da fare, per il momento non c'è all'ipotesi un decreto per il blocco totale delle attività produttive. No, al momento è no, si valuterà. Ma credo che ci siano delle analisi in corso con gli scienziati e con i tecnici, perché non è la politica da sola che decide una cosa di questo genere, per tutelare gli interessi dei cittadini, senza spettacolarizzazione. E nel frattempo noi domani voteremo anche, io non potrò perché sono a Milano e non è meglio evitare andare a Roma, di sforare il deficit per avere più di quasi 10 miliardi da mettere subito a supporto dei lavoratori, dei dipendenti, delle partite IVA, dei familiari che insomma hanno i figli a casa. Quindi credo che sia un lavoro serio. Grazie di essere venuto fuori del colo. Arrivederci e saluti a tutti.